Un'innovazione continua delle fonti informative e delle metodologie rappresenta un ingrediente fondamentale per lo sviluppo di una statistica ufficiale in grado di rispondere in modo tempestivo ed efficace ad una domanda di informazione crescente ed eterogenea. In questo webinar ci si concentrerà in particolare sulla disponibilità di nuove basi informative frutto dell'integrazione fra fonti di diversa origine, da indagini così come di natura amministrativa, grazie alla quale poter analizzare o rianalizzare fenomeni sociali di rilievo con una lente nuova e più efficace. Una ricchezza che, vale la pena sottolineare, ha anche funzionato come una sorta di salvagente durante i mesi più difficili dell'emergenza sanitaria. I relatori, Roberto Ricci, presidente Invalsi, Andrea Ciccarelli, ordinario di Statistica Economica all'Università di Teramo, Federica Pintaldi e Gerardo Gallo dell'Instat ci aiuteranno ad esplorare queste innovazioni attraverso alcuni esempi particolarmente significativi nel campo dell'analisi del mercato del lavoro, dello studio del sistema di istruzione e della promozione degli apprendimenti, del passaggio epocale ai censimenti permanenti della popolazione e dell'esame dei fattori chiave per la transizione dalla formazione universitaria a degli sbocchi lavorativi. Vi aspettiamo!